Musica Oggi vogliamo dedicare la copertina del nostro TG Sport ad un collega prezioso e sempre disponibile. Luigi Di Lallo oggi festeggia il suo compleanno, forse un destino già scritto per lui, figlio del direttore Antonio Di Lallo, a 17 anni le prime gare da cronista sui campi di calcio, ma non solo perché Luigi in questi anni ha dato prova di professionalità commentando diverse discipline sportive. Un continuo mettersi in discussione sui campi, nei palazzetti e sul piccolo schermo con la conduzione di a tutto campo, un vero punto di riferimento per tutti i colleghi della redazione sportiva. Luigi, auguri di buon compleanno da tutti noi. Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolisse per il calcio di Serie D, domani in campo per i recuperi Olimpia Agnonese e Vasto Girardi. Come anticipato nelle nostre analisi settimanali, la giornata di campionato appena archiviata ha portato delle novità in vetta alla classifica. Successo per il campo basso, pareggio per il notaresco, ora i lupi hanno ben cinque lunghezze di vantaggio con una gara in meno rispetto agli abruzzesi. Un margine importantissimo a sei gare dalla fine, cinque regolari di campionato più il recupero di Vasto Girardi, previsto mercoledì 26 maggio. Una giornata decisiva, sì, possiamo dirlo senza mezzi termini, il vantaggio che ora c'è in classifica è la spallata decisiva, almeno crediamo, alla lotta al vertice. Gara vera a Selvapiana, il campo basso ha dovuto tirar fuori tutte le energie possibili per avere la meglio sul Tolentino. Marchigiani pericolosi durante tutto l'arco della gara, rosso-blu, abili a sfruttare al massimo le occasioni da gol create con Dalmazzi di Domenico Antonio e Tengorang. Tre marcatori alternativi, tre giocatori che seppur già segno in stagione, hanno dimostrato ancora una volta la varietà offensiva dei lupi. Avversario scomodo il Tolentino e i cremisi sono senz'altro la squadra che fino ad ora ha messo in maggior difficoltà il collettivo di mister Cudini nelle due gare di campionato andata e ritorno. Vendicata la sconfitta maturata nella prima parte di campionato per i lupi a fine gara, la doppia gioia, il successo e l'allungo in classifica. Ora bisogna certificare tutti i sacrifici, concretizzare il lavoro svolto dal primo agosto, giorno dell'avvio del ritiro estivo del campo basso. Una stagione lunga e senuante con tutte le problematiche che conosciamo, ora serve un ultimo sforzo a partire dalla trasferta di Giulianova in programma domenica. Un altro step che può risultare decisivo, campo basso al Fadini contro i giallorossi che occupano il terzo ultimo posto in classifica. Notaresco atteso proprio dal Tolentino che ha bisogno di muovere la classifica per risalire dalla zona play-out. Insomma settimana importantissima per un campo basso che deve compiere gli ultimi sforzi per poter festeggiare il ritorno in Lega Pro. Sulla cronaca anche la società ha voluto ricordare Pippo Viscido, ex giocatore del campo basso, nella stagione 2011-2012 sotto leggi da Capone nel campionato di seconda divisione ex C2. Tramite le pagine social il tributo ad un centrocampista tutto grinta e cuore, protagonista in quella nata sportiva di una salvezza miracolosa. Dopo un avvio importante con Provenza in panchina ci fu il ridimensionamento dell'organico con il bimbo nuovo allenatore. In quella stagione 16 presenze ed una rete per Viscido che ha lasciato un ottimo ricordo in Molise, in particolare per l'attaccamento alla maglia rosso-blu. Sconfitto il vasto Girardi nella tana dell'FC Matese. Al Ferrante non si passa. Dal 13 dicembre i matesini sono imbattuti tra le muramiche. La squadra di Corrado Urbano è stata capace di risalire la classifica con 18 risultati utili sulle ultime 19 gare giocate. Un percorso incredibile che vale al momento la quarta posizione a pari punti con il Castelfidardo e ad una sola lunghezza dal Cinze al Balonga. Per l'FC Matese, addirittura se consideriamo l'avvio di stagione, la possibilità concreta di chiudere al terzo posto. Niente da fare per il vasto Girardi che non riesce più a vincere. Oggettivamente non era facile in casa dei Biancoverdi, in particolare dopo il gol messo a segno sul rigore da Barone, dopo pochissimi minuti di gioco. I gialloblu di Prosperi hanno provato a rientrare in gara prima di capitolare definitivamente con il gol di Galesio. Non c'è tempo per pensare a ciò che è stato. Domani si torna in campo nel recupero previsto al Ditella contro il Pineto. Una gara delicatissima per gli altomolisani piombati al dodicesimo posto con appena un punto di vantaggio sulla zona play-out. Vero che il vasto Girardi deve recuperare tre gare, ma gli avversari sono tutti estremamente competitivi. Vedi Campobasso e Castelnuovo, Vomano. La prima sfida è quella più importante. Domani in casa contro il Pineto serve a un successo che manca dal 7 marzo, oltre due mesi fa in trasferta con i Rieti. Dall'altra parte gli abruzzesi a quota 40 cercano l'ultimo acuto per chiudere definitivamente i giochi salvezza e cercare la scalata alla zona play-off. Altra sconfitta per l'Olimpianionese che ha ceduto 1-0 al Civitelle contro i Rieti. Anche per i Granata, subito rientro in campo domani pomeriggio, altra gara casalinga, avversario di turno il Tolentino. Per i Granata la retrocessione pressoché matematica. L'obiettivo è quello di scavalcare il Porto Sant'Elpidio per chiudere quantomeno al penultimo posto in classifica e ottenere il primo successo in campionato. 8 giornate per maturare questi obiettivi tra turni di campionato e recuperi. L'Agnonese vuole regalarsi qualche gioia in una stagione davvero complessa. Chi osa sul girone F, domenica il rinvio tra Aprilia e Giulianova, casi di positività al Covid per la società laziale. È l'ennesimo episodio nel raggruppamento con un calendario così fitto, sarà difficile recuperare la sfida. Non vogliamo neanche pensare all'eventualità in cui l'Aprilia dovesse proseguire a non scendere in campo nelle prossime giornate. A questo punto attendiamo una nuova decisione cervellotica da parte della LND che per ben quattro volte ha allungato il finale di stagione. Il campo basso ha sbloccato la gara contro il Tolentino grazie ad una rete del difensore Dalmazzi, autore in generale di un'ottima prestazione. All'inizio pensavo fosse addirittura un fuorigioco, perché a mio parere pensavo fosse partito un attimo prima. Poi lì è uscito un po' il difensore che a me ha cercato di anticiparlo e per fortuna è andato bene. E poi è uscito attaccante l'interno? Dopo, insomma. Esce poche volte quello. Sì, diciamo che il punto di oggi, insomma, un occhio ci va la classifica, però come ho sempre detto in altre circostanze, guardiamo a noi semplicemente. Poi, quando ci sarà l'aritmetica della vittoria, me lo auguro e festeggeremo. Però te l'ho detto ora, pensiamo a Giulianova e basta, pensiamo a noi. E poi, certo, se gli altri perdono qualche cosina, a noi ci va più che bene. Sai, complimenti fanno sempre piacere. Io lavoro come tutti gli altri, lavoriamo per, non per il bene, insomma, singolo, ma lavoriamo per il bene della scuola. Sono contento anche per Simone, che ha avuto, diciamo, poco spazio e ha fatto gol. Sono contento per Gioce, che è tornato. Comunque, anche oggi mancava vittoria, ma credo che abbiamo dimostrato l'ennesima volta che siamo un gruppo, un grande gruppo che non vive di singoli, ma vive di collettivo. Perché ci aiutiamo sempre, come si è visto ogni domenica. Come ha detto il Mistri prima, siamo andati in gol 16, 17 giocatori differenti. Quindi ci mettiamo a disposizione del Mistri, della squadra e siamo contenti di questo. L'obiettivo era più tre ed è stato raggiunto. Quando avete creduto nell'obiettivo raggiunto, visto tutto quello che è accaduto in campo, i tre gol annullati e tutto il resto? Insomma, il Tolentino è stata una squadra abbastanza ostica oggi. Sì, a parer mio, il Tolentino è una squadra organizzata, forse nonostante la classifica, una delle migliori squadre che abbiamo incontrato. Però noi siamo stati molto bravi, molto forti. Secondo me non abbiamo sofferto quasi niente, per quel contropiede che in 90 minuti ci può capitare, ci può stare. Insomma, se lui prendeva il palla e andava fuori, stavamo a parlare di un'altra situazione propria. Però comunque sia, secondo me è una delle scuole più organizzate che abbiamo trovato fino ad oggi. E poi niente, insomma, siamo contenti così. Il Notaresco ha pareggiato, siamo a più cinque con una partita in meno. Ora, come ho detto al suo collega, stiamo preparando da martedì la trasferta per Giulianova. Poi mercoledì abbiamo Vasto Girardi. Insomma, speriamo di continuare con questo percorso. Stai agli altri di giudicare quello che faccio io. Ti ringrazio dei complimenti. Io ti ho detto lavoro e mi metto a disposizione per il Ministro e per la squadra. Poi certo, se la squadra fa bene, ogni singolo fa bene. Quindi è una cosa che va di conseguenza. Certo, quando un difensore fa gol è tutto un po' più, come si dice, più ingigantito. Però, insomma, sono contento della prestazione e dedico il gol alla mia famiglia, che è mio babbo e mia mamma, che stavano qua. E va bene così, sono contento. Il Campobasso in questo momento ha cinque punti di vantaggio sul Notaresco. Potrebbero diventare otto se il Campobasso dovesse vincere il recupero in programma a Vasto Girardi. Il prossimo 26 maggio il Notaresco, domenica, ha pareggiato in casa contro la Cinzia Albalonga. Il commento dei tecnici. Mister Falasca, è arrivato questo pareggio nel primo tempo, un notaresco tonico sulle ali della vittoria contro il Montegiorgio. Ha sbloccato subito, ha controllato bene e ha sofferto poco l'iniziativa dell'Albalonga. Che nel secondo tempo è rientrata con più verve, però dopo il pareggio ha avuto la forza di rialzarsi, ha creato occasioni. La deabbendata oggi non è stata proprio dalla parte di Rosso Blu, un paleno attraverso. Hai detto bene tu, le osservazioni sono giustissime. Non ci possiamo rimproverare niente. Abbiamo fatto una grande partita, in parte 4-5 minuti del secondo tempo, che comunque, dato che affrontavamo una squadra molto forte, potevamo concedere. Purtroppo in questi 5 minuti è venuto il pareggio loro. Però, ripeto, noi meritavamo davvero di vincere questa partita. La deabbendata ha detto bene, tu non ci hai assistito, visto il palo e la traversa finali. Per quanto riguarda la partita, appunto, al di là delle occasioni, nel primo tempo avete controllato bene, poi nel secondo tempo l'ingresso in campo anche di Marchionne ha dato quella freschezza e quella verve in più sulla corsia di sinistra. Certamente. Lorenzo, come ci aspettavamo, è entrato con il piglio giusto. Ha creato molte occasioni dalla sua parte, tant'è che, se non erro, la traversa di Dos Santos è natata da un suo cross. E, niente, ripeto, mi dispiace perché abbiamo messo in campo tutto, tutti i valori che avevamo, tecnico, tattici e umani, di determinazione, di voglia, di tutto quello che avevamo dentro. E, purtroppo, non ci ha assistito la fortuna e portiamo a casa questo punto e speriamo di poter andare avanti con orgoglio e dignità per sperare, in sostanza. Mister Chiappare, è arrivato questo pareggio per il Cinzia Albalonga in un periodo in cui l'Albalonga non riesce a vincere l'ultima, il primo aprile, contro i Rieti, però ha dimostrato di essere una squadra quadrata e di spessore. Sì, intanto diciamo che abbiamo affrontato una squadra molto competitiva, una squadra organizzata e abbiamo pagato, secondo me, un inizio di gara non all'altezza, dove abbiamo cominciato in modo blando e alla prima disattenzione abbiamo concesso subito gol e non è facile sempre riprendere in mano la gara, anche perché davanti avevamo, come ho detto, una buona squadra. Poi invece mi è piaciuta la reazione dei ragazzi, mi è piaciuta la voglia di andare in avanti, la voglia di riprendere a giocare, perché noi comunque siamo abituati a giocare a calcio e siamo abituati a creare delle occasioni muovendo sempre velocemente la palla. I ragazzi sono stati bravi, abbiamo fatto gol, anche se solo su punizione, però abbiamo creato tantissime delle situazioni che potevamo portare dalla nostra parte. C'è stato annullato un gol che ho rivisto e sinceramente ho dei grossi dubbi, però diciamo che nell'insieme sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, perché perlomeno non pareggiare questa partita sarebbe stato troppo. Il Vasto Girardi è pronto a tornare in campo al Titella per riscattare il passo falso di domenica a margine del match del Ferranti. Abbiamo intervistato il direttore generale. Antonio Crudele, direttore generale del Vasto Girardi, è arrivata una sconfitta sul campo del Matese, una prestazione discreta da parte vostra, ma si poteva fare di più. Sì, una prestazione discreta si poteva fare di più, però col senno di poi, adesso ormai è inutile parlare. Sapevamo che era difficile venire qui a Matese, a Piedimonte, e così è stato. Poi partire pronti via sotto di un gol, con rigore, è stato ancora più difficile. Ha reso tutto ancora più difficile, quindi salviamo parte della prestazione. Io avevo detto che erano nove finali, adesso ne sono rimaste otto. Dobbiamo dare il massimo già dalla prossima, chiedendo aiuto, tra virgolette, anche al nostro impianto, perché discuteremo quattro partite consecutive a casa, in casa nostra. Quindi speriamo che riusciamo a ripartire nel più breve tempo possibile. Sui gol, due ingenuità che potevano essere evitate. Sì, come dicevo prima, col senno di poi è ormai andato. Ormai dobbiamo pensare solo a lavorare. Sicuramente il mister saprà analizzare gli errori commessi. In questi due o tre giorni che ci separano dalla gara di mercoledì dobbiamo ritrovare assolutamente le energie, soprattutto mentali, per affrontare al massimo il pineto in casa nostra. Il calendario fitto, poi ci sarà anche da regolare la partita con il campo basso. Serviranno energie e cuore per tornare a far punti. Sì, in questo ultimo step del campionato dobbiamo dare il massimo. Dobbiamo dare il massimo a tutti, come società, come staff, come calciatori. Quindi pensiamo partita dopo partita. Quindi la testa già è a pineto, come dicevo, cercando di correggere gli errori commessi e cercando soprattutto di recuperare le energie mentali che in questo momento sono un po' agli sgoccioli. Automobilismo questo fine settimana. Motori accesi lungo le curve della Gildonese per il 28esimo slalom città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini. Anche quest'anno la gara automobilistica organizzata dall'ACI Molise è valida come prova del campionato italiano di specialità. Sabato le verifiche tecnico-sportive, domenica le tre manche, per assegnare i punti della seconda tappa del torneo tricolore. Calcio a 5, Cus Molise, Chaminade, Sporting e Venafro hanno messo in archivio la stagione 2020-2021. Sono calati i titoli di coda per le molisane che quest'anno sono state impegnate nei campionati nazionali di Calcio a 5. Serie A2, stagione finita per il Cus Molise. La squadra di Mister Sanginario non è riuscita ad avere la meglio contro il Futsal Coba e ha chiuso il suo cammino nella finale play-off con una sconfitta per 6-2. Un risultato però che deve assolutamente rimanere confinato allo scorso sabato considerando la caratura degli avversari. Ogni partita infatti ha una storia a sé, il bilancio da tracciare per questa stagione non ha nulla di negativo. I Cussini non possono che essere soddisfatti dei 33 punti conquistati ed è la quarta posizione raggiunta, soprattutto perché frutto di sacrifici e di un duro lavoro di squadra, il tutto cementato anche dalla validità dello staff tecnico, guidato da Mister Sanginario e composto da ragazzi che si sono formati all'interno dell'Università degli Studi del Molise. Il team del capoluogo è presente anche ai primi posti della classifica marcatori con Mateos Barichiello, autore di ben 19 reti, solo nella regular season e una nei play-off, mentre nella post-season il protagonista è Vojto Turek che ha violato la rete per ben quattro volte. Le basi dalle quali partire per la futura stagione dunque sembrano più solide del previsto e crescono anche le possibilità di puntare sempre più in alto. Sul versante della Serie B salvezza raggiunta dalla Chaminade, la divisione nazionale Calcio A5 ha definito infatti la cancellazione dei play-out nei tornei di Serie A2 e B e la contemporanea retrocessione di tutte le formazioni all'ultimo posto al termine della regular season, nei quattro gironi della seconda Serie nazionale e negli otto della terza. I ragazzi del duo tecnico Cavaliere Marsella dunque, avendo vinto l'ultimo match contro il Barletta per 10 a 7, hanno sorpassato lo Sporting Venafro, retrocesso nel campionato regionale di competenza. Ma non è detta l'ultima parola. La società della provincia di Zernia infatti sta già lavorando per presentare domanda di ripescaggio. Basket femminile di Serie A1, dopo Carolina Sanchez anche Sofia Marangoni lascia la molisana Magnoli a campo basso. La play-quartia veronese capitano nella seconda parte della stagione dopo l'addio per motivi familiari della pivot argentina lascia il Molise avendo scritto un capitolo importante della storia rosso-blu. terza come presenza con la maglia campobassana, ben 79, è stata la seconda miglior realizzatrice della storia delle Magnolie con 731 punti all'attivo, con una media punti vicina alla doppia cifra, esattamente 9,3 a partita. Mountain Bike, non solo settore maschile, ma anche un gruppo di bikers in rosa per la Molise Cycling Team. Mariana Venditti, una delle tre donne che fa parte della Molise Cycling Team, presentazione della squadra qui nel Bosco Faiere. Bello, è una bellissima occasione perché soprattutto dopo la pandemia alcuni di noi non si erano mai visti di persona e quindi questa è l'opportunità di vedersi finalmente, ovviamente con tutte le dovute circostanze del caso, però è bello esserci perché si spera che magari con la bella stagione si incominci a riprendere per quanto possibile l'attività della società. Mariana, la bicicletta, la mountain bike in specifico, mi sa che è l'unico sport dove non si è fermato, si è potuto sempre andare avanti. In effetti sì, anche se molte gare sono ferme, cominciano a ripartire, ma non è semplice organizzare i grandi numeri con queste norme, quindi diciamo che è un po' complicato, però piano piano, io penso che piano piano si possa tornare a rifarle. Perché è importante andare in bici? Oddio, non è importante, è uno sport come gli altri, però ognuno ci trova qualcosa che si riallaccia alla propria persona, cioè dà un senso fortissimo di libertà sicuramente, è questo che differenzia la bicicletta da tante altre cose, il contatto con la natura, essere non solo sempre in gruppo ma anche da soli, regala diciamo momenti di particolare riflessione. Ti fa staccare anche un po' da tutto. Sicuramente, sì sì sì, però è impegnativo, quindi non è una passeggiata rilassante, anche lo sforzo a volte aiuta a rilassarsi. L'ultima cosa, tu fai parte della squadra non anglistica. Io diciamo che riesco a gestire il lavoro fuori dalla bici, il lavoro in bici perché sono un'insegnante di fitness e quindi mi alleno in palestra e poi qualche volta riesco a uscire con loro fuori, però non li seguo tantissimo perché sono donna, sono mamma e quindi le donne, per questo ce ne sono tre, perché le donne purtroppo in questo sono un pochino limitate. Bocce domenica è in programma la terza giornata del torneo di società. In prima categoria le gare in programma sono Madonna delle Grazie Termoli contro Bocciotromo Comunale Campobasso e Monforte contro Avis, entrambi i team del capoluogo. Per il torneo di terza categoria la Frosolonesi ospiterà il Aghetto Pinchiaturo e la Rocca Oratino la Bocciofila Riccese 1. Nel secondo raggruppamento, la seconda formazione Fortorina, ospiterà la Bocciofila Avis Campobasso. A chiudere il quadro, la torre Vinchiaturo contro l'Amonforte Campobasso. Calcio regionale, il Termoli dopo il passo falso dell'esordio ha inanellato tre vittorie consecutive che gli permettono di aprire la graduatoria insieme all'Aurora Alto Casertano. Domenica prossima turno di riposo per i basso molisani. Ai nostri microfoni il portiere. Antonio Bruno, portiere del Termoli, una trasferta ostica questa contro il Sesto Campano, un primo tempo insomma un po' insordina da tutte e due le parti. Ci è voluto un episodio nel secondo tempo che è andato in vostro favore con la giocata vincente di Sabatino? Sì, noi sapevamo che venire qui era veramente dura, soprattutto per il fattore campo. Sapevamo di affrontare una squadra veramente forte, ostica e che ci metteva tutto l'agonismo che serviva per poter portare i tre punti a casa considerando anche che venivano da due sconfitte. Quindi la partita si doveva decidere su episodi e così è stato. Buon per noi diciamo. Dopo il gol, credo ad un paio di minuti, avete anche avuto l'occasione del 2-0, l'avete sfruttata male, lì forse poteva esserci un po' più di apprezzione. Ma il Sesto Campano doveva fare il gioco subito d'attacco e quindi noi dovevamo sfruttare in contropiede la loro azione per cercare di riportare in parità il risultato. Poi alla fine da far noi il gol ci siamo ritrovati a soffrire gli ultimi minuti quindi diciamo che ci è andata bene così. Sì, con un format del genere si può dire che magari perdendo la prima si possono complicare le cose. Voi avete perso la prima, però siete stati bravi a rimettervi in Sesto poi con le partite successive. Noi abbiamo avuto un po' di situazioni strane prima di questo format particolare e riuscire a rientrare nel campionato con la testa e la mentalità giusta era veramente difficile. Diciamo che quella sconfitta ci è servita per tirar fuori i famosi attributi che servono per poter affrontare al meglio questo tipo di campionato. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio! Grazie!